Allora Luigi, siamo alla rifinitura della gara di Coppa che sappiamo che sarà importantissimo perché può valere appunto la qualificazione ai quarti, però si sa che si va a affrontare una grande squadra come appunto il Gravina che sta facendo un buonissimo campionato. Sì, è una squadra blasonata, una squadra che il Girone Pogliese è prima in classifica, la rispettiamo senza ombra di dubbio ma noi siamo costretti a vincere, visto il regolamento ci dice che a pari punti dobbiamo per forza vincere con un gol di scarto quindi noi proveremo a portare i tre punti a casa. Ecco, un regolamento un pochettino beffardo perché in caso di 2-2 si va addirittura a fare con il lancio della monetina, veramente una cosa un po' particolare. È un paradosso, è un regolamento che purtroppo non piace né a noi né a loro ma lo dobbiamo per forza accettare perché è così, andremo, ti ripeto, noi al di là del 2-2 che è un risultato comunque importante ma noi dobbiamo cercare di vincere la partita nei 95 minuti. E' stata per voi, la settimana scorsa è stata una grande settimana perché oltre a vincere contro il Cassa e San Giorgio ad ottenere anche l'undicessima vittoria consecutiva è arrivato anche questo finalmente, questo primo posto in classifica che l'avete cercato e per tante settimane e alla fine è arrivato. No, noi più che cercare il primo posto noi abbiamo cercato sempre di lavorare per vincere tutte le partite. Poi c'è stata la notizia che il Sant'Agnello ha perso lì a Montesarchio ma questo non toglie che noi dobbiamo stare sempre in allerta perché il campionato non è ancora finito e non è stato ancora deciso nulla. Ecco, sei stato squalificato però il tuo collega che ti ha sostituito, Emilio Crisco, l'ha fatto molto bene ma così come ha sempre fatto quando è stato chiamato in causa. Sicuramente, lo io l'ho sempre detto, noi siamo tre centrali che sono tutte e tre all'altezza della situazione quindi ognuno non fa sentire la mancanza dell'altro. Invece per domani servirà anche un grande apporto del pubblico perché Gravina è un tifo caldo soprattutto in questo momento, si va comunque ad affrontare una squadra storica come la nostra quindi servirà anche il nostro pubblico domani. Vabbè sicuramente, i nostri tifosi non mancheranno lì a Gravina perché sanno che il loro apporto per noi è fondamentale come hanno sempre fatto quindi noi siamo contenti del loro tifo e del loro sostegno.